7 regioni, 11 province, 47 comuni, 50 eventi, 18 festival in rete, 93 giorni di durata, 2000 km di estensione. Dal 16 giugno al 16 settembre torna Borgate dal vivo, il festival culturale delle Borgate Alpine. In Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Friuli, Venezia Giulia, Veneto e Umbria. Il festival più grande d'Europa che si prende cura dei territori più piccoli. Letteratura, teatro, musica, appuntamenti per i più piccoli. Tra i tanti artisti della terza edizione di Borgate dal vivo ci saranno Marco Paolini, Teo Teardo ed Elio Germano, Cristiano Godano, Marco Marsullo, Giuseppe Cederna, Andrea Pomella, Rosella Postorino, Giuseppe Marchetta, Franco Faggiani, Carlotta, Valentina Farinaccio, Saverio Tommasi, Matteo Bussola e molti, molti altri. Borgate dal vivo, dal 16 giugno al 16 settembre. Segui Borgate dal vivo su www.borgatedalvivo.it e su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Borgate dal vivo, dove natura e cultura si incontrano per un viaggio nella bellezza. Grazie a tutti.